What's up a tutti ragazzi e benvenuti da Giocherina in questo nuovo video. Quest'oggi ci discostiamo un pochettino da quello che porto di solito sul canale. Però visto che appunto di solito ragazzi non vi ho nascosto la mia passione per il cinema perché comunque ho fatto anche diverse recensioni appunto di qualche film qui sul canale e visto che l'argomento alquanto discusso ultimamente mi andava di parlare un pochettino con voi ragazzi della nuova serie prodotta da Amazon che è uscita appunto da pochissimi giorni su Amazon Prime Video Gli Anelli del Potere ok? Quindi sarebbe a dire comunque brand Il Signore degli Anelli. Voi tutti sapete quanto io sia particolarmente affessionata appunto al Signore degli Anelli direi che il mio tatuaggio lo testimonia e quindi mi andava appunto di condividere con voi qualche pensiero che mi son fatta riguardo i primi due episodi che sono stati appunto pubblicati di questa nuova serie. Piccola premessa ragazzi vi dirò che io avevo fatto anche una reaction se non sbaglio soltanto al proprio un trailer di lancio che era stato fatto vedere mesi fa quindi in cui non si era visto assolutamente niente e vi avevo detto che ovviamente non avendo visto nulla non potevo comunque esprimere un parere a riguardo perché non c'era nulla su cui esprimere un parere mentre ragazzi col passare dei mesi sono trapelate online quindi sul web, sui social diverse immagini quindi diverse fotografie prese appunto dal set comunque dalla serie stessa e lì ragazzi è incominciato il putiferio perché alcuni elementi erano trapelati appunto da queste fotografie a molte 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 persone non erano piaciuti o perlomeno non erano tanto andati a genio ok io adesso non voglio ragazzi entrare nel merito dell'argomento del politically correct perché significherebbe tipo buttarsi nella fossa dei leoni quindi non voglio dire niente a riguardo perché da un lato ragazzi oggigiorno è una cosa con cui conviviamo tra molte virgolette nel senso che comunque è un argomento dei giorni nostri quindi se hanno fatto certe scelte per quanto riguarda questa serie dal punto di vista politically correct benvenga ragazzi nel senso amen quindi non voglio entrare nel merito di quell'argomento ragazzi anche seppure lì appunto ci sarebbe da dire però penso che non sia effettivamente quello il puntiglio principale su cui molte persone comunque si sono soffermate quando parlano di questa serie ovviamente quindi già lì già con quelle foto le persone ragazzi lo sapete al giorno d'oggi comunque è facilissimo scatenare un incendio diciamo così sui social ancora prima comunque di vedere il prodotto la gente si è scatenata nel peggiore dei modi diciamo così vuoi per un motivo come per un altro e comunque tante persone dicevano come fate a giudicare un prodotto ancora prima di vederlo questa è una cosa che io dico sempre per esempio anche riguardo i videogiochi ok quando per esempio ragazzi la gente si mette a giudicare un gioco guardando solo un trailer è sicuramente un atteggiamento abbastanza superficiale quindi pure io sì mi ero fatta diciamo una idea tra molte virgolette al riguardo semplicemente vedendo le foto però ho detto vabbè alla fine poi bisogna vedere la sostanza si può esprimere un parere una volta vista la serie ok una volta che il prodotto è stato messo a disposizione quindi hanno messo appunto ragazzi disponibili i primi due episodi se non sbaglio il terzo dovrebbero pubblicarlo tipo il 9 settembre se non erro adesso non mi ricordo la data precisa quindi hanno messo disponibili soltanto i primi due episodi la gente si è scatenata pure su questo cioè del tipo oddio ma perché pubblica gli episodi ogni tanto una volta le serie erano così nel senso magari c'era una puntata a settimana si aspettava una volta a settimana che arrivasse il momento riguardo alla serie quindi cioè sti cazzi di quello no anche perché penso che comunque amazon dovesse un attimino tastare il terreno nel senso forse riguardo comunque il numero di spettatori eccetera 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 ma non so se è stata una scelta tipo di marketing o che cosa l'idea comunque di pubblicarla un po' alla volta però appunto non mi voglio soffermare neanche su quello ragazzi per chi non mi interessa se pubblicano un episodio ogni tanto l'importante e ritorniamo al punto di prima è il contenuto che era quello che importava a tutti noi fondamentalmente alla fine dei giochi e quindi appunto ho guardato i primi due episodi nonostante ragazzi fossi un pelino scettica fossi un pochettino anche forse preoccupata tra virgolette che avessero fatto qualcosa di non lo so cioè ragazzi perché appunto come vi dicevo prima io sono molto affezionata al signore degli anelli non ho letto tutti i libri purtroppo ho letto soltanto la compagnia dell'anello ma sicuramente recupererò la cosa sono quindi molto affezionata ovviamente ragazzi alla saga cinematografica di Peter Jackson uscita ben vent'anni fa incredibile ma è vero mi fa strano solo a dirlo e quindi quella saga per me ragazzi è la vita nel senso la ritengo una delle trilogie sicuramente più belle che siano mai state fatte nella storia del cinema voi potete pure smentirmi ragazzi non mi interessa personalmente parlando lo ritengo un capolavoro ok quindi per me è intoccabile da ogni punto di vista quel film che siano anche i film poi ovviamente ragazzi non completamente fedeli ai libri questo già si sapeva quindi quando lo porti sul grande schermo non può mai essere sputato e spiccicato al libro questo si sapeva però tralasciando questo ragazzi i tre film sono un capolavoro assoluto quindi penso ragazzi che molti di noi comunque siano stati sicuramente questo penso sia innegabile condizionati dall'idea che ci siamo fatti del Signore degli Anelli attraverso la trilogia cinematografica penso che sia anche forse abbastanza normale anche se questo sicuramente non deve essere motivo di critica spietata a prescindere quindi io avendo comunque in mente ragazzi la trilogia cinematografica siccome mi ritengo una persona abbastanza matura mi so detta mettiamo un attimo da parte i film diamogli una possibilità ok nonostante appunto fossi un pochettino scettico un pochettino impaurita diciamo così e quindi ho detto mettiamo da parte il tutto voglio guardare questi episodi in maniera completamente neutra nel senso senza alcun tipo di pregiudizio e senza alcun tipo di pensiero ragazzi mi so detta lo guardo come se non lo so come se non conoscessi il Signore degli Anelli come se non avessi visto il film come se fosse una serie basta nel senso senza starmi a fare troppe pippe mentali passatemi il termine questa premessa ci tenevo a farla perché appunto magari poi uno potrebbe dire ah ma vedi Tete si è fatta condiziona no io so partita a guardare questi primi due episodi senza alcun tipo di influenza ok pregressa dovuta alla mia visione della trilogia cinematografica ogni episodio ragazzi dura più di un'ora quindi comunque già diciamo che è bella impegnativa la durata perché solidamente insomma gli episodi delle serie noi siamo abituati 40 minuti tre quarti d'ora massimo 50 minuti e delle serie che ho guardato io ragazzi era non dico raro però era abbastanza inusuale che gli episodi durassero più di un'ora quindi comunque magari già la durata potrebbe risultare un pochettino pesante da affrontare però anche quelli sono dettagli alla fin fine perché se comunque ti piace quello che stai guardando probabilmente ti passa un'ora e neanche te ne accorgi e quindi sì li ho guardati entrambi per intero senza mai distrarmi perché magari uno potrebbe dire eh ma se non li hai guardati con attenzione quindi ti è sfuggito qualche dettaglio no sono stata la sera seduta sul divano attenta a guardarmi sti primi due episodi quindi arriviamo al succo perché probabilmente è quello che state aspettando le sapere mi sono piaciuti? allora io non me devo nascondere dietro a niente ragazzi perché appunto si parla comunque sempre di pareri personali ricordiamoci e sottolineiamolo prima che qualcuno venga a dire qualsiasi cosa ragazzi ok sono pareri personali quindi mi raccomando il rispetto sempre delle opinioni altrui a me personalmente ragazzi non mi hanno convinto cioè per me per ora perché magari ho detto magari sui primi due episodi magari andando avanti nei prossimi episodi acquista quel punto in più c'ha quella cosa in più che mi fa di ah guarda mi interessa ok questi primi due episodi ragazzi non mi hanno convinta non per me ripeto sono un no per ora ripeto perché comunque penso che ovviamente guarderò anche gli altri episodi comunque per avere un parere alla fine personale ragazzi totale riguardo l'intera serie ovviamente perché comunque soffermarsi solo al primo episodio per i primi due episodi appunto risulterebbe essere comunque un po' superficiale parlando di questi primi due episodi ragazzi per me è no perché premessa questa penso sia stata considerata ragazzi la serie più costosa mai fatta una roba del genere costa tipo un miliardo di dollari se non sbaglio adesso non mi ricordo ho una cifra simile è costata veramente ragazzi una fortuna la realizzazione di questa serie e la cosa si vede nel senso che visivamente ragazzi per quanto riguarda tutto il resto comunque costumi non lo so comunque mettiamoci gli effetti mettiamoci tutto le musiche tutto quello che vi pare dal punto di vista tecnico questa serie sicuramente è incredibile perché negarlo ragazzi significherebbe veramente negare un'evidenza ok visivamente è spettacolare ragazzi veramente spettacolare le musiche devo dire comunque sono sono state alquanto interessanti e quindi dal punto anche registicamente sicuramente è figo anche anche da quel punto di vista sicuramente è figo la fotografia tutto ragazzi rimanendo sul lato tecnico questi primi due episodi devo dire che mi hanno stupita cioè ma nel senso comunque non mi aspettavo di meno perché sapendo appunto quanto è costata la serie se fosse stato meno il risultato penso ci saremmo rimasti tutti un po' di merda no ok quindi non sono rimasta cioè stupita a livelli stellari perché già si sapeva quanto cacchio ci ha speso Amazon per realizzare sta serie quindi dal punto di vista tecnico è wow cioè bellissima assolutamente bellissima arriviamo però ragazzi ai punti che non mi hanno convinta in primis se proprio la devo dire tutta allora il protagonista della serie è Galadriel ok io adesso non entrerò nei dettagli della storia sulla quale penso ci potrebbe essere anche molto da dire ma io non sono ragazzi un'esperta di Tolkien purtroppo mi piacerebbe esserlo ma non lo sono quindi non sono una purista di Tolkien non ho letto tutte le sue opere quindi non voglio esprimermi da quel punto di vista su quanto magari il contenuto possa essere fedele o meno anche perché tra l'altro mi sembra di aver capito che appunto per fare questa serie Amazon non avesse diritti per il Silmarillion una delle opere di Tolkien da quale avrebbero dovuto prendere spunto diciamo così perché questa serie è ambientata millenni prima rispetto alle vicende della trilogia cinematografica non hanno avuto i diritti per quell'opera quindi non hanno potuto attingere a nulla di quell'opera avevano i diritti soltanto per le appendici del Signore degli Anelli quindi comunque avevano a disposizione veramente poca roba ragazzi poca roba da cui attingere per cui secondo me starsi troppo a fissare sul fatto che non sia fedele anche lì mi sembra un po' superficiale perché cioè alla fin fine hanno fatto quello che hanno potuto con quel poco che avevano e quindi lì forse poi mi verrebbe da di perché farlo allora anche quelli su dettagli ok non mi voglio soffermare su queste cose diciamo superficiali tra virgolette che poi ci sono state mi sa delle imprecisioni perché mi sembra di aver sentito che la mappa che fanno vedere all'inizio non è precisa non è corretta non era come avrebbe dovuto essere altri dettagli che appunto ragazzi riguardano comunque gli scritti di Tolkien non mi esprimo non mi esprimo perché non non conosco purtroppo nulla di tutto ciò quindi non posso esprimermi lascio le parole e i discorsi sicuramente agli esperti e i fanatici di Tolkien quindi non mi voglio concentrare tanto sulla storia anche se di base quella ragazzi appunto comunque Sauron c'è la minaccia di Sauron millenni prima appunto delle vicende bla 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 e quindi poi le varie cose che ne conseguono quindi il protagonista è Galadriel fondamentalmente è lei parliamo di lei ad esempio a me sta attrice ragazzi questa attrice sinceramente personalmente parlando ragazzi non mi convince non c'ha qualcosa che non mi sconfinfera non ve so di perché io vi ripeto non me sono messa a far paragoni con niente che riguarda la trilogia cinematografica quindi uno ma potrebbe sta di eh ma se ti metti a far paragoni con Kate Blanchett assolutamente no ragazzi vi ripeto io ho guardato la serie come se avessi una tabula rasa in testa e personalmente parlando sta attrice c'ha qualcosa che non mi convince al 100% non so perché ma non non mi ha sconfinferato non mi sconfinfera primo secondo ragazzi un altro dettaglio insomma hanno fatto di Galadriel ragazzi una una guerriera adesso vi ripeto non voglio entrare nel merito della storia di tutti sti argomenti del giorno d'oggi ma a me sinceramente pure sta cosa sapendo comunque che personaggio aveva in mente Tolkien per Galadriel sinceramente pure questo mi fa storci un po' il naso ma togliendo quello l'attrice di per sé non mi ha convinta ragazzi non mi ha convinta per niente idem gli altri attori non so perché non so per come ma sinceramente dal punto di vista della recitazione ragazzi c'è qualcosa nell'area della serie che non mi convince al cento per cento non vi so dire il perché vi ripeto probabilmente poi saranno anche bravi per l'amore del cielo ma a me personalmente la parte recitativa mi ha lasciato un po' perplessa mi ha lasciato un po' perplessa sinceramente poi ragazzi altro aspetto che non mi convince è appunto sta sceneggiatura nel senso la sceneggiatura i dialoghi fra i personaggi le cose che si dicono mi sembra veramente tutto molto non lo so cioè non dico lasciato al caso perché ovviamente non è quella è la frase che sto cercando ma mi sembra molto c'è molto spicciola non vi so spiegare il motivo ma mi sembra un po' povera sinceramente non lo so non mi ha convinto ragazzi quindi la parte recitativa e la parte della sceneggiatura quindi dialoghi comunque situazioni eccetera 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 hanno lasciato un po' me un po' me sta sceneggiatura sti dialoghi un po' così cioè poi alla fine alla fine ragazzi dei due episodi alla fine mi è venuto in mente un paragone da fare con la trilogia cinematografica anche se ripeto dalla fin fine sono comunque due prodotti diversi non se potrebbero sta paragonare però quando ragazzi io guardo il signore degli anelli e lo riguardo dopo vent'anni dopo che l'avrò rivisto un centinaio di volte io ogni volta che riguardo il signore degli anelli della trilogia cinematografica ragazzi rimango incantata dai dialoghi anche perché c'hanno un non so che di solenne e di non lo so di etereo quei dialoghi ragazzi il modo in cui hanno fatto esprimere i personaggi le frasi che dicono le parole che usano a me me lascia ancora bocca aperta ragazzi ogni volta che lo guardo a me sta serie questi due episodi ragazzi questi dialoghi mi sono sembrati appunto poi ripensandoci dopo a farci il paragone perché ho letto alcuni hanno detto no incredibile la solennità di che a me questi due episodi i dialoghi le parole i termini che usano il modo in cui i personaggi parlano non mi comunicano quella stessa solennità questo è il punto forse non lo so sarò limitata io ma mi sembra che dal punto di vista della sceneggiatura ragazzi comunque vi ripeto dei dialoghi delle conversazioni eccetera eccetera ci sia qualcosa che manca ci sia non lo so non ci siano basi così solide non ve lo so spiegare ragazzi ma mi ha dato questa impressione sinceramente infatti durante la visione ragazzi non non mi sono emozionata in nessun momento cioè non vorrei arrivare a dire che mi hanno annoiato ma diciamo quasi di sì sinceramente alla fine del secondo episodio me l'ho fatta un po' due noci diciamo così nel senso che che nonostante tutto nonostante appunto ci siano dei momenti di cioè che dovrebbero essere comunque emotivi dei momenti di azione dei momenti di suspense a me non mi ha comunicato questo purtroppo cioè vi ripeto non voglio arrivare a dire che mi sono annoiata ma ma quasi quasi l'ho trovato un pochettino non dico pesante ma lento forse c'è postato i primi due episodi forse vi ripeto magari poi guardo gli altri e mi ricredo cioè magari poi cambia completamente il tono il ritmo non lo so fatto sta che questi aspetti ragazzi di questi due episodi di questa serie mi hanno lasciato perplessa quindi non mi hanno non mi hanno convinto ci sono persone ragazzi che dicono che è il capolavoro del secolo il capolavoro della vita che mamma mia questi primi due episodi wow però appunto lì ragazzi alzo le spalle e dico che ovviamente poi ognuno ha i propri pareri sono contenta se a voi ovviamente questi primi due episodi siano piaciuti se vanno comunicato qualcosa che purtroppo a me ragazzi non è arrivato staremo a vedere staremo a vedere come si evolve la cosa come si evolve la serie ma questi aspetti ragazzi ovviamente adesso mi faranno andare un pochettino più titubante a guardare i prossimi episodi e quindi niente ragazzi questa era la mia opinione riguardo i primi due episodi degli anelli del potere chiaramente ragazzi fatemi sapere qua sotto a voi che cosa ne è parso cosa ne avete pensato e insomma qual è il vostro parere ecco a riguardo anche perché ragazzi condividere pensieri comunque può aiutare ad aprire tanti orizzonti quindi mi raccomando lasciate anche un bel commentino qua sotto staremo a vedere ragazzi cosa succederà nei prossimi episodi e se il mio parere personale possa arrivare a cambiare chissà questo video termina qui grazie a tutti un bacione e un abdash a tutti ragazzi da giocherina ciao 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 Grazie a tutti.